Delle nostre squadre nazionali solo il Pineto in campo. Un Abba travolgente in gara 2 va alla Bella in programma domani mercoledì alle 19 a Motta di Livenza. La vincente andrà alle semifinali. Felice il mister Pinetese a fine gara. Allora finisce 3 a 0 nettamente gara 2 dei quarti di finale con un super Abba Pineto che sbanca contro il Motta di Livenza vendicando lavando il 3 a 1 dell'andata nettamente perché 3 a 0 ma 21 a 23 a 20 anzi più netto di quanto dicano i parziali. Gianni Rosichini una bellissima soddisfazione una grande rivincita e soprattutto il Pineto che vogliamo vedere sempre. Sì sicuramente questa sera abbiamo fatto una buona partita e si è un po' verificato il contrario di quello che si è verificato a Motta cioè Motta aveva dei punti di riferimento molto precisi nella loro palestra l'hanno sfruttata al meglio questa sera ciò non l'hanno avuto e noi giocavamo nel nostro impianto bellissimo e quindi abbiamo potuto impostare il gioco fin dal servizio in maniera diversa più agevole e questo ci ha sicuramente favorito. Bene in tutti i fondamentali con un muro in crescita dall'inizio un po' incerto poi sempre meglio 11 muri vincenti grande prestazione ancora una volta di Eld di Partenio a Morelli stratosferico non solo 25 punti ma 61% offensivo è tutto dire. Secondo me a muro siamo cresciuti durante la partita quando abbiamo un po' capito il tempo di salto su gamba che era il loro giocatore sicuramente più pericoloso chiaramente la squadra ha giocato bene tutta devo dire che Morelli questa sera ha fatto una partita strepitosa veramente strepitosa in tutti i fondamentali con margine d'errore bassissimo e questo è chiaramente il risultato di questa gara.